Musica Via libera la legge sull'edilizia popolare Diritti negati in Iran, convegno a Palazzo Laskaris Torneo di debate, 40 studenti a confronto nell'aula consigliare sulle proteste ambientali Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati Premialità per i residenti in Piemonte da più di 15 anni e per i single con figli Questi alcuni punti chiave della legge sull'edilizia popolare approvata a maggioranza dall'aula di Palazzo Laskaris Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale la nuova legge sulle case popolari proposta dall'assessore alla politica della casa, Chiara Caucino Il provvedimento, composto da sei articoli, si fonda su alcuni punti chiave Cambiano i criteri di premialità legati agli anni di residenza in Piemonte per le graduatorie di assegnazione dell'alloggio popolare 15, 20 o 25 anni Aumenta il punteggio per i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico prevede che alcuni appartamenti siano assegnate alle forze dell'ordine introduce per gli assegnatari un controllo sull'eventuale proprietà di beni mobili di lusso e impedisce per un certo periodo l'assegnazione a chi ha occupato abusivamente una casa popolare Infine è stato approvato un emendamento a firma dell'assessore Maurizio Marrone che istituisce per il triennio 2024-2026 un fondo di 500.000 euro per aiutare gli assegnatari delle case ATC a far fronte alle bollette di conguaglio delle utenze particolarmente onerose recapitate nelle ultime settimane I temi sono molti ma soprattutto puntano sul radicamento sul territorio piemontese sulla tutela della famiglia, sulla lotta alla povertà, alla sicurezza, all'illegalità Sappiamo che l'edilizia sociale è uno strumento che dà dignità al cittadino gli dà inclusione per cui siamo molto contenti di essere intervenuti in questo settore che è molto importante dove ci sono sempre delle difficoltà Critici gli interventi di numerosi consiglieri di opposizione È un DDL discriminatorio perché pone come criterio rilevante la residenzialità di 15-20-25 anni un provvedimento che non ha nulla a che fare con i veri temi problematici delle case popolari Al termine della discussione è stato approvato a maggioranza l'ordine del giorno presentato dal consigliere di Fratelli d'Italia Carlo Riva Vercellotti che chiede di discutere in commissione urbanistica il riordino delle attuali tre ATC del Piemonte Condizioni dignitose rispetto del contratto nazionale per i lavoratori del RSA Questo è il focus dell'interrogazione che la consigliera Frediani Movimento 4 Ottobre ha rivolto all'assessore Icardi Come intende intervenire la regione Piemonte per tutelare i lavoratori e le lavoratrici delle RSA del Piemonte a cui è stato applicato il contratto collettivo a naste dalla multinazionale francese Colisee Questa è l'interrogazione che la consigliera Francesca Frediani Movimento 4 Ottobre ha rivolto all'assessore alla sanità Luigi Icardi nell'ambito dei question time Sono 10 le RSA piemontesi al momento con questo contratto collocate nelle province di Torino, Novara e Alessandria ha rimarcato la consigliera Frediani I lavoratori coinvolti sono circa 900 per un totale di 1186 posti letto Il passaggio al contratto a naste ha comportato tutte le ridotte e un gap retributivo rispetto al settore pubblico di oltre il 30% L'amministrazione ha avviato il confronto con le organizzazioni sindacali interessate per definire ipotesi e interventi di sostegno alle lavoratrici e lavoratori del comparto ha dichiarato l'assessore Icardi E' stato sottoscritto tra la regione Piemonte e le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale un protocollo d'intesa che fra i suoi punti si propone di garantire al comparto socioassistenziale ed educativo un trattamento dignitoso attraverso la corretta e integrale applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro siglati dalle organizzazioni sindacali Un signore d'altri tempi amato e rispettato da tutti anche dagli avversari politici Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Stefano Lasi ha ricordato Franco Miglietti consigliere regionale della sesta legislatura eletto nel 1995 nelle liste del Partito Democratico della Sinistra scomparso il 6 ottobre 2023 all'età di 86 anni Commemorato anche Fernando Santoni De Sio, consigliere regionale della quarta legislatura una persona di grande sensibilità umana e forti passioni ideali ha sottolineato all'Asia nel ricordare il consigliere scomparso a 78 anni l'11 ottobre 2021 Avvocato penalista e esponente di spicco del Partito Liberale Italiano si specializzò su temi della responsabilità professionale, medica e dei settori complementari I diritti negati in Iran al centro di un incontro che si è tenuto a Palazzo Laskaris Iran dalla repressione interna alla destabilizzazione dell'intero Medio Oriente questo è il tema del convegno che si è svolto nell'aula consigliare di Palazzo Laskaris L'incontro, sostenuto dal Comitato Diritti Umani e Civili della regione Piemonte è stato organizzato dall'Associazione Iran Libero e Democratico nata nel 2015 in difesa dei diritti del popolo iraniano che da 45 anni lotta per la libertà, la democrazia e la laicità Abbiamo necessità di creare le condizioni anche dal Consiglio regionale e con l'associazione sul territorio per cercare di stabilizzare il sistema geopolitico Per noi è un momento molto importante all'interno delle attività del Comitato perché ci permette di approfondire non solo ciò che riguarda la causa iraniana che peraltro anche a livello mediatico ha preso sicuramente un valore diverso dopo l'uccisione di Massamini ma per fare un ragionamento un po' più politico ma anche tecnico per quel che riguarda la crisi nel Medio Oriente dove il ruolo dell'Iran e ovviamente del governo estremista iraniano è assolutamente determinante e strategico La teocrazia dittatoriale in Iran non si ferma per quanto riguarda devastante violazione dei diritti umani Vogliamo dare questo messaggio che gli iraniani sono decisi insieme alla loro resistenza organizzata a rovesciare questo regime iraniano e poi inestaurare una repubblica laica, democratica Andranno in viaggio studi in Normandia gli studenti e le studentesse che si sono aggiudicati il torneo di debate che ha animato l'Aula Consigliare Motivare, argomentare, confutare il favore o la contrarietà alle proteste degli ambientalisti che agiscono contro la legge per sensibilizzare la comunità Su questo tema si sono cimentati 40 studenti e studentesse di 10 istituti secondari di secondo grado del Piemonte che hanno partecipato al torneo di debate a Palazzo Lascaris organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale nell'ambito della 43esima edizione del concorso di storia contemporanea Il dibattito all'americana obbliga gli studenti ad affrontare le questioni dal punto di vista dei pro e dal punto di vista dei contro ed è un modo originale, uno fra i tanti, che il Comitato Resistenza ha scelto per portare i ragazzi a studiare e ad approfondire la storia del Novecento e in particolare i suoi legami importanti con le radici della nostra Costituzione I quattro vincitori del Liceo Classico e Linguistico Gioberti di Torino parteciperanno al viaggio di studio in Normandia organizzato dal Comitato dove avranno l'occasione di visitare i celebri luoghi dello sbarco alleato durante la Seconda Guerra Mondiale e ricostruire storicamente quei giorni che hanno segnato il destino dell'Europa e del mondo È stata un'esperienza molto stimolante, sia appunto nella parte di preparazione quindi la ricerca di fonti, di argomentazioni sia proprio nell'azione, nel momento proprio del dibattito è stato molto divertente, molto stimolante anche un po' di ansia prima di iniziare a parlare ma poi molto avvincente Le regole del World School Debate, molto diffuso nelle scuole, nei college nelle università d'America e Inghilterra prevedono un confronto di opinioni regolato da modalità specifiche tra interlocutori che sostengono una tesi a favore e una contro su un tema assegnato Ognuno di noi è uscito forse più grande rispetto a prima grazie al dibattito propostoci anche dalla squadra avversaria e ringrazierei anche la squadra avversaria per aver permesso un dibattito così bello Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci